Benvenuti nella web radio di essericambiamento.it, vogliamo annunciarvi che da domani mattina iniziamo gli appuntamenti in Kingspeak dalle 6.30 alle 7.00, in questo lasso di tempo faremo insieme esercizi di centratura e leggeremo assieme dei testi importanti, poi faremo anche una piccola meditazione. La sera invece continuiamo gli appuntamenti sempre dalle 21 alle 22 per sperimentare assieme gli esercizi fondamentali, a parte la sera della puntata in radio che è quella di mercoledì. Ora vi lascio con Andrea che vi spiegherà come scaricare il Teamspeak e accedervi. Grazie, un saluto a tutti, ciao! Ciao a tutti ragazzi, per poter accedere al Teamspeak e scaricarlo potete trovare tutte le informazioni direttamente sullo spazio dedicato sul nostro sito web www.essericambiamento.it Una volta scaricato il programma di Teamspeak sul computer dovete inserire i due dati che sono il server address e la server password per poter accedere alla stanza. Una volta completato l'accesso verrà confermato dalla scritta benvenuti. Quindi, vi aspettiamo alla mattina dalle 6 e mezza alle 7, grazie a tutti e a presto, ciao! Ciao, un saluto anche da me, se avete comunque difficoltà scriveteci a info.essericambiamento.it così vi possiamo supportare un po' più da vicino. Ciao, un saluto a tutti, ci vediamo da domani in Teamspeak. A presto!